Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Come da ultimo decreto ministeriale per limitare ulteriormente gli spostamenti, questi video saranno realizzati senza la presenza del meteorologo in studio. Persistono condizioni di tempo instabile sulla nostra penisola, vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 27 marzo. Pioggia al mattino al centro sud con neve oltre i 1000-1500 metri, sull'Appennino più asciutto al nord salvo residui fenomeni sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio ancora tempo instabile al centro sud con temporali anche intensi sulle isole maggiori, fiocchi in Appennino oltre i 1100-1400 metri, nuvoloso ma con tempo asciutto al nord. In serata è notata tendenza a miglioramento ovunque salvo residui piogge tra Marche e Abruzzo e sulle isole maggiori. Temperature minime in aumento al centro nord e il lieve calo al sud, massime in generale rialzo. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.